Un altro argomento di cui vi volevo parlare è quello dei Golden Globe, non so se l'avete sentito, però i Golden Globe sono stati accusati di essere stati comprati, non so se avete sentito di questa notizia, fatemi sapere. Praticamente che cosa è successo? Sono arrivate le nomination dei Golden Globe e è arrivata la nomination di una serie di Netflix che non era piaciuta a nessuno, ovvero Emily in Paris, la serie tv di Lily Collins che è stata accusata di essere uno stereotipo dietro l'altro, di statunitensi, di come romanticizzano Parigi e tutte queste cose. Emily in Paris è una serie tv che è stata spermacchiata a destra e a manca per quanto è brutta, ma ha ricevuto delle candidature ai Golden Globe. Quando sono uscite le candidature la gente è rimasta sconvolta e ha detto ma com'è possibile che questi hanno candidato sta molnezza? E io sinceramente non l'ho vista, quindi magari è una serie tv bellissima, non ne ho idea, quindi non mi permetto di giudicare, onestamente sembra quella roba pseudo romantica, roba così di cui non mi va di guardare sinceramente la serie. Però è stato molto dibattuto il fatto del come mai, come sia stato possibile che fosse stata candidata per i Golden Globe. I Golden Globe se non lo sapete sono dei premi che vengono dati dalla stampa estera a Hollywood e è un gruppo molto ristretto, i Golden Globe influenzano le candidature agli Oscar, molto spesso sono le stesse quasi nomine in un certo senso. Ed è molto facile, diciamo, l'obiettivo è molto spesso ringraziarsi la giuria dei Golden Globe perché è molto più piccola, è meno di 100 persone, mentre invece quella degli Oscar è migliaia di persone, è un casino, riuscili a intortarli tutti, insomma, chiamiamoli così. Ovviamente ci sono campagne, se volete magari possiamo anche parlarvi di come funziona tutta la campagna per un film candidato all'Oscar, per farlo candidare, eccetera, eccetera. I Golden Globe sono la stampa estera e essendo molto pochi a livello numerico, l'obiettivo è molto spesso quello di influenzarli, così una candidatura ai Golden Globe, che è molto più accessibile, influenzerà poi quella per gli Oscar. E poi da lì si inizia tutta la campagna Oscar quando un film è candidato per fare pubblicità su pubblicità. Cosa è successo ai Golden Globe? Ai Golden Globe, mentre stavano facendo le riprese di Emily in Paris, la produzione che è una produzione Netflix, cosa ha fatto? Ha preso più di 80 membri della stampa estera, quelli che votano per i Golden Globe, e li ha portati a Parigi. Gli ha fatto vivere a queste quasi 100 persone un'esperienza totalmente esclusiva in un hotel a 5 stelle, far rivivere i luoghi in cui avevano girato la serie tv e tutto, e a tutti gli effetti ha fatto fare una vacanza esclusiva su tutto ciò. Qui inizia il problema, perché di questa cosa si è saputo dopo la nomina della serie tv. È diventata una roba di cui si è parlato per quanto riguarda l'argo pubblico e non rimanesse semplicemente circoscritto alle persone che l'hanno vissuta o alla stampa e roba del genere. Molti stanno, diciamo, attacciando questo comportamento di essere stato un po' una sorta di corruzione, per aver comprato questi membri che avrebbero poi votato, insomma, alle serie tv, per averli un po' comprati con cose circoscritte, cose un po' vicine all'argomento di per sé, tramite questi comportamenti. Ma i Golden Globe influenzano solo i film esteri, degli Oscar, oppure film di produzione americani? Influenzano tutto, principalmente. Influenzano proprio tutte le nomine, tranne quelle che sono legate alla televisione, perché ovviamente non hanno spazio per gli Oscar, però influenzano tutto. Molto spesso, infatti, si vede le candidature, sono molto molto simili. Quindi, molte persone hanno un po', visto erano molto sorpresi del fatto che Emily in Paris fosse stata candidata a una serie che non credevano effettivamente meritevole, fosse stata candidata ai Golden Globe, hanno un po' detto, hanno un po' fatto 2 più 2, e hanno pensato che le due cose fossero collegate e hanno visto anche un pochino di marcio, diciamo così, per quanto riguarda questo viaggio aziendale, in un certo senso. Tutto ciò è vero? È giusto? Come funziona? Allora, da una parte posso capire che l'arco pubblico, o anche le persone strettamente connesse a tutto ciò, possono vedere con questo viaggio esclusivo e molto lussuoso, fatto fare la stampa, come una sorta di comprarseli, intortarseli, per poi far votare il proprio film, il proprio prodotto. Posso capire che possa essere visto così, però, allo stesso tempo, bisogna anche parlare di un altro argomento, ovvero che queste cose sono la norma. Certi tipi di coinvolgimento per quanto riguarda la stampa sono proprio alla base della sponsorizzazione di un prodotto, che sia film, serie tv e tutte queste cose. C'è per esempio, che ne so, quando doveva uscire il DVD di Game of Thrones o la nuova stagione, era stato fatto fare dalla Warner Bros. un tour ai giornalisti nei luoghi in cui avevano girato la serie di Game of Thrones. Quindi hanno preso un sacco di persone, l'hanno portata lì in Scozia, credo in Scozia, vabbè, non lo so, oppure in Islanda, gli hanno fatto fare tutto un giro per queste cose. Che vuol dire tutto ciò che funziona sempre? Quando c'è una campagna promozionale per far conoscere il proprio film, o addirittura quando il film è stato candidato e quindi farlo votare, queste cose accadono perennemente all'interno del mondo della stampa e del cinema. Cioè, per esempio, quando un film... Marta, sapevi che il titolo Emily in Paris tecnicamente dovrebbe essere letto alla francese? Oddio. In modo che Emily rimi con Paris? Piccola curiosità, totalmente off topic. Cioè, non credo che sia... dovrebbe essere letto così, credo sia una delle opportunità Emily in Paris. Non so, anche perché i francesi tecnicamente tendono a... diciamo, rendere francesizzare qualsiasi nome. Ma per gli Oscar la stampa e i giudici non vengono invitati a duemila feste e cose simili per promuovere e aiutare il proprio film? Assolutamente sì. Infatti è proprio esattamente la stessa identica cosa. La campagna di promozione per gli Oscar, quando un film viene candidato, è esattamente la stessa identica cosa. Molti fanno tante feste a Hollywood intorno, oppure mandano dei pacchi particolari, mandano delle edizioni speciali, edizioni deluxe, primo per cogliere l'attenzione sul proprio film da parte delle persone che dovranno votare qualche categoria a cui è poi nominato anche quel film stesso. Ma c'è anche tutta un'altra questione, ovvero a volte le persone non hanno visto quel film, magari se non sono perso, è uscito diversi mesi prima, non possono più vederlo. E quindi proprio per questo mandano delle opzioni in cui vedere questi film e recuperarli. Ovviamente è difficile qui riuscire a fare una divisione netta tra quanto è sponsorizzare qualcosa e quanto potrebbe quasi avvicinarsi alla corruzione, tra mille virgolette. La stampa molto spesso ha degli omaggi, pensate magari anche alle cose che inviano a me, vado all'anteprima X e danno in omaggio a tutti i giornalisti, una penna, un giacchetto, una borsa, un Funko Pop. È una cosa molto legata anche all'esperienza, perché se tu vivi un'esperienza piacevole e la connetti a un film, a un prodotto, molto probabilmente il tuo animo nei confronti di quel prodotto sarà positivo. E quindi tu hai un ricordo positivo di quell'esperienza e anche del film involontariamente. E magari potresti giudicarlo diversamente, anche involontariamente, ma non perché ti hanno comprato questa cosa, ma semplicemente perché la leghi a un ricordo piacevole. Vediamo gli stessi meccanismi con gli influencer quando vengono invitati a eventi dei brand, che per esempio, sì esattamente, è esattamente la stessa identica cosa. L'idea è più che altro creare delle occasioni o delle opportunità per far parlare del tuo brand per occasioni sopra le righe, perché se tu magari mandassi solamente un link dove poterlo vedere in alteprima, magari non parlano di quel prodotto. Se invece li inviti a qualcosa di sconvolgente, in cui si mettono a fare le foto, non lo so, con una ricostruzione, io mi ricordo per IT, c'era la ricostruzione del parco giochi, per esempio, di IT, per la stampa, oppure per The Burst of Prey, c'era delle ricostruzioni, regalavano i giacchetti, roba così. È ovvio che ci saranno più foto, le persone faranno le storie su Instagram, e quindi ci sarà più pubblicità per tutto ciò. La tecnica di Shakespeare in Love per comprare... no, è un po' differente lì.